Oggi racconto una storia vocazionale e di una delle tante chiese purtroppo chiuse di Napoli. Subito dopo la sigla. Maria D'Ambrosio nasce a Napoli, pensate, 237 anni fa. Era il 19 febbraio del 1782. La sua era una famiglia modesta, insomma, che viveva quasi alla giornata. E questa bambina già a sette anni era chiamata Santarella, proprio perché era una bambina buona, potremmo dire anche docile. E manifestò tra l'altro da subito una sua forte religiosità. Non potendo farsi suora, si iscrisse subito al Terzo Ordine Francescano, sotto la regola dei Frati Alcantarini, nel convento delle Terziarie Alcantarine, che avevano appunto sede non lontano da casa sua. Siamo nella chiesa di Santa Lucia al Monte, una sede tra l'altro vicino Casa D'Ambrosio. Questa zona oggi è una zona di pregio. Parliamo della collina del Vomero, ma all'epoca, siamo sul finire del XVIII secolo, del 1700, a Napoli, quella zona era praticamente una collina agricola, una collina dedita alla pastorizia, alla coltivazione. All'età di vent'anni, ad ogni modo, Maria D'Ambrosio resta orfana di entrambi i genitori e viene accettata finalmente nel convento, dove assume il nome di Maria Crocifissa delle Piaghe di Gesù. La sua intenzione era quella di seguire l'ispirazione, la vita, la devozione di Maria Francesca delle Cinque Piaghe, una terziaria alcantarina anche lei, tra l'altro chiamata nei quartieri spagnoli di Napoli la Santarella. Insomma, Maria D'Ambrosio non esisteva più. Da quel momento esisteva Maria Crocifissa delle Piaghe, che si dimostrò da subito ligia alle regole dell'ordine. Era una ragazza di appena 20 anni e dimostrò subito di avere un particolare talento, quello della saggezza. Veniva spesso chiamata, infatti, per dissipare le contese tra contadini, tra popolani che animavano, ovviamente, quella zona di Napoli in quel periodo. Tra l'altro queste persone la chiamavano di continuo perché le riconoscevano delle doti profetiche e soprattutto dei prodigi. Ad ogni modo, Maria Crocifissa delle Piaghe fu ammirata anche per la devozione al Gesù bambino e a Maria Santissima addolorata. Le sue virtù erano tante. Tra queste spiccavano sicuramente l'umiltà, la mortificazione, la carità, la semplicità. Maria Crocifissa, tra l'altro, per tutta la vita patì tante malattie ed era molto cagionevole di salute. Tant'è vero che fin da subito fu chiaro a tutti che il nome Crocifisso le si addiceva davvero in maniera consola, in maniera appropriata. La sua devozione, tra l'altro, le fu riconosciuta anche da un pontefice, Pio VII, che le consegnò e le fece arrivare delle reliquie perché lei aveva pregato per il ritorno del pontefice a Roma dopo che era stato in qualche modo esiliato a Gaeta dalle truppe napoleoniche. Morì a Napoli ad appena 43 anni. Era il 16 dicembre del 1826. Fu sepolta nella chiesa di Sant'Agostino alla Zecca, una chiesa molto bella di Napoli, davvero tra le più belle del capoluogo partenopeo. In seguito, nel 1846, le sue spoglie furono traslate nella chiesa di Santa Lucia al Monte, chiesa dell'omonimo complesso francescano che si affaccia dal vomero e vede praticamente tutta Napoli. Tra l'altro, questo plesso era particolarmente importante per la sua intensa spiritualità. Era, insomma, un centro di riferimento molto importante per la religione. Passano più di 100 anni dalla sua morte. Ora siamo nel 1932. C'è una ricognizione delle sue spoglie e verranno poi tumulate definitivamente nel 1940 nel complesso che è proprio in quell'anno costruito del Sacrario dei Servi di Dio. Ed è tuttora lì che sono oggi le sue spoglie. Tra l'altro, questo Sacrario dei Servi di Dio ospita anche altri 14 corpi di confratelli, in qualche modo venerati dalla chiesa. Hanno dato onore e santità a questo storico posto che purtroppo, però, appunto, come dicevo all'inizio, oggi è chiuso per una forte crisi vocazionale. Infatti è aperta soltanto la chiesa gestita dai frati minori di Santa Chiara. Tra i corpi presenti insieme a quello di Maria crocifisso delle piaghe, c'è anche quello del fratello laico apostolo di Calabria, ha chiamato poi Gesù bambino dai napoletani per il dono che aveva perché con un segno della croce poteva operare dei miracoli. Ad ogni modo, la causa di beatificazione di Maria crocifissa delle piaghe iniziò nel 1848, 22 anni dopo la morte. Era il 28 luglio e si concluse sette anni più tardi, il 21 luglio del 1855. Il processo fu approvato dalla Santa Sede dopo che erano stati esaminati tutti gli incartamenti dalla diocesi di Napoli. Negli incartamenti c'era la fama di santità di vita, virtù, miracoli della serva di Dio. E il 14 maggio del 1896, 70 anni dopo la morte, fu emanato il decreto dell'eroicità delle virtù di Maria crocifissa delle piaghe con il titolo di venerabile. A Napoli si dice E poi però ci sono delle eccezioni, ci sono delle vite spese interamente per gli altri, delle vite spese interamente nelle preghiere per gli altri, tra l'altro. Ed è questo il caso di Maria crocifissa delle piaghe all'anagrafe Maria d'Ambrosio. A domani.